Allora stiamo attenti ai sederi perchè porca misera questi qua ce li mettono eh dietro avete capito no? Eh mamma mia allora 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 per chi non sapesse questo si chiama questo gioco si chiama non mi ricordo più Fall Guys si Fall Guys è Beydounisen non è che non posso ricordarmelo però praticamente in questo gioco cos'è che si deve fare Allora è praticamente chiamato un Battle Royale anche se secondo me è sbagliato chiamarlo Battle Royale Perché secondo me è un po' confonde ricorda Fortnite e basta no? È un po' confonde secondo me Insomma non aiuto dobbiamo stare attenti qua perchè se no ci buttano giù e non va bene non va bene Perfetto però stiamo andando abbastanza bene noi dai su su salta salta vai 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 forza mannaggia Eh che cosa sta facendo col braccio? Porca miseria ok perfetto ci siamo qualificati Allora questo praticamente è il nuovo gioco che sta praticamente piacendo troppissimo a tutti quanti porca misera Era una cosa bellissima veramente io ci ho giocato per qualche volta ok Però diciamo questo è il primo video che porto qua sul canale di Fall Guys è molto bello Sì qua con me c'è il mio amico strizza la pizza voi riuscite a vederlo? Certo che riuscite a vedere Guardatelo qua è bellissimo Allora ciao strizza la pizza come va? Ha detto che aveva uno schifo Vabbè per lui uno schifo ma per noi è tutto quanto bello porca miseria che bello Allora ora dobbiamo Oh caspita no questo è il gioco brutto Allora qua praticamente dobbiamo memorizzare È l'unico gioco che non mi dovevano mettere perchè io non ho ancora capito come si fa Cioè ora dobbiamo memorizzare tipo le cose che ci danno sullo schermo Però Non lo so adesso vediamo eh Allora praticamente sullo schermo Allora in teoria qua sotto ora ci devono dare Ok qua ci sono le arance Eh perfetto no? Eh le arance Eh ok arance Eh non sono arance sono Che caspita sono questi meloni? Ok vabbè Insomma eh scusate però io non so come 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 si fa? Io non mi ricorderò mai Poi fra l'altro Ok perfetto ora siamo siamo qua siamo giusti ok Qua non moriamo in teoria Eh perfetto perfetto mi sono ricordato bene Sono proprio un genio Eh Allora perfetto ok Qua c'è l'arancia ricordati Ricordiamocelo Qua c'è la mela per esempio È tutto quanto perfetto no? Mi raccomando dobbiamo stare attenti perchè Tipo Io non so non mi ricordo se no forse mi dà aiuto Vediamo cos'è che Ok la mela quindi qua Ok qua sì 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 Dobbiamo semplicemente stare attenti a non dimenticarci le cose Ma poi ci stanno spingendo questi schifosi Ok perfetto abbiamo passato Ho fatto un taglio perchè secondo me è abbastanza noioso questo coso da far vedere Però Però adesso abbiamo passato Ci siamo qualificati di nuovo E rimaniamo solo in 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 21 Molto bene Allora adesso andiamo a fare il prossimo minigioco Ok Sara strizza la pizza tu cosa ne pensi di questo gioco Eh beh pure a strizza la pizza piace Ah mi ha dato un pugno ma come ti permetti brutto schifoso Non ti permettere mai più sai Allora qua dobbiamo Ah giusto dobbiamo saltare nei cerchi ok Praticamente cos'è che dobbiamo fare Ecco vedete questi cerchi Questi cerchi qua Dobbiamo saltarci dentro È molto stra Lo so Voi dite è stra Sì Però dobbiamo saltarci dentro E praticamente ci danno punti Ora Io Devo Cioè dobbiamo stare attenti Perché praticamente Se non facciamo punti come gli altri Eh No Come ti permetti oh Ehi Vabbè scusate ma Ok qua c'è un altro cerchio Dai forza Dai Eh dai E su Non rompere le scatole Eh perfetto Ce l'ho fatta Avete visto sono stato bravo Non è vero Cioè tutti lo stanno fare Oh qua Qua forza forza Eh Ce l'ho fatta Sì Eh sono bravissimo Non è vero Dai no Sono bravo no Cioè nel senso Non è che sto essendo Squalificato no Cioè voglio dire Non è che sto Essendo Dai Brutto schifoso Non ti permette Eh Qua c'è un altro Un altro Che schifo Ok però almeno Non siamo gli ultimi No no dai Non possiamo No non possiamo perdere Dai Che schifo Che faccio Cioè che faccio Che facciamo in realtà Con tutta la squadra Porca miseria Mi si era spento Tutto quanto Perché deve suonare Cioè no Ovviamente cos'è Che succede Mentre Dunys Registra i suoi video Succede Che la sveglia La sveglia Suona Mentre regista I suoi video No E ovviamente Non può Non succede Guardate Io sto per rompere Qualcuno E qualcosa Siamo stati eliminati Ecco praticamente Quando succedono Queste cose È abbastanza brutto Perché io voglio Continuare a giocare Ma invece sono stato Buttato fuori Mannaggia Vabbè Allora Adesso passiamo Al prossimo round Mi raccomando Porca spuzzola Eh Mangio un cracker Mangio un cracker Miam Miam Molto buone No sponsor però Mi raccomando Porca maiala Non si sta facendo Sono rimasto ancora qua Dai Yeah Ah Che fast Quando Allora Quando fa così Però è fastidioso Quando i server Non funzionano Eh Eh Beh Pensa tu Vero Eh Non funziona Sono qua da Tipo mezz'ora Non sta Non sta Vabbè Saranno i server Di Fallguy Che adesso Non funzioneranno Vi porterò altri episodi Io purtroppo Ora Non posso aspettare Più di tanto Perché È finito Nel senso Fra poco Devo caricare il video Questo è un video No tutto quanto No così Perché Cioè Voglio Volevo portare Anche io Questo gioco Però vi porterò Assolutamente Altri episodi Perché è bellissimo Veramente Bellissimo Però ecco Forse devono risolvere Qualcosa con i server Perché sennò Poi dopo È un po' Diciamo Da un po' fastidio Ecco stare Là Ad aspettare tre ore Non è che Magari non succede niente Vabbè Comunque Ovviamente È all'inizio Quindi diamogli tempo È molto bello Però davvero Molto bello Infatti se volete Giocatelo Soprattutto con gli amici Porca miseria Con gli amici E Mmm Un ghiaccio No aspetta Cos'è che vi piace a voi Una cosa che vi piace Tanto da mangiare Come quella È Tipo a voi Cosa vi piace A me piace Non ne ho idea Mi piacciono tante cose Comunque Va bene E comunque Grazie per aver guardato Questo video Mi dispiace Non aver fatto Un video più lungo Però I tempi sono questi E quindi Se siete arrivati Fino a questo punto del video Scrivete carta Nei commenti E noi Dunisiani Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao